buongiorno benvenuti al giorno dopo 11 marzo il day after il giorno dopo il meeting con la bce il tanto atteso meeting con la bce e devo dire che questa volta probabilmente avrete assistito draghi non ha deluso le attese è successo un po di tutto nelle video analisi dei giorni scorsi avevo detto i vari titoli allacciate le cinture come proteggersi dalla volatilità proprio perché si sapeva era prevedibile aspettarsi i fuochi d'artificio con questo appuntamento con la bce anche perché non si sapeva non era stato svelato nulla era solo stato detto che sarebbe stato potenziato il quantitative easing e già alla mia destra vedete una copertina di oggi di un giornale tedesco ovviamente mario draghi con il suo la sua citazione famosa whatever it takes qualsiasi cosa insomma purché in questo caso all'epoca nel 2012 fu detto per l'euro mentre adesso per far rialzare questa inflazione anche perché ieri draghi ha detto quando ha difeso il suo piano la politica monetaria in atto in corso in questo momento della bce ha detto non si può dire a tu non si può dire no a tutti ha detto in tedesco nine su allem quindi i tedeschi oggi già rispondono con questa copertina raffigurato appunto il presidente della bce mario draghi mario draghi che cosa ha fatto qualcosa di storico mai successo prima quattro manovre che adesso non entro nei vari tecnicismi l'obiettivo è quello di rimettere in moto in circolazione la macchina economica europea attraverso quelli che sono i suoi mezzi quelli strumenti a sua disposizione le munizioni come lui le ha anche definite ovvero mettere in circolo la moneta affinché le banche una delle grandi novità è proprio quella che praticamente la bce andrà a pagare le banche pur di finanziare imprese e famiglie attraverso praticamente la restituzione di quel meno 0 4 altra novità che le banche sono costrette soprattutto quelle tedesche che sono quelle che hanno maggiori depositi overnight presso la bce quindi da meno 0 3 meno 0 4 questo per mettere in moto appunto questo circolo finanziare il credito alle imprese alle famiglie in modo tale che si spenda di più più investimenti consumi che aumentano e di conseguenza dovrebbe salire un'inflazione un'inflazione che pensate rispetto a dicembre qualche mese fa la stessa bce aveva pronosticato all'1 per cento per 2016 ieri ha la nuova stima attenzione più 1,0 è diventato la stima nuova 0,1 per cento immaginate in che situazione ci troviamo draghi comunque ha detto non siamo in deflazione sebbene il termine deflazione si avvicini molto a quella che è la situazione attuale che sta vivendo la zona euro insomma quindi sono così tante le decisioni le manovre super bazuga come l'ha definito qualcuno tutto quello che è stato appunto deciso ieri nel miti della bce che i mercati ancora stanno metabolizzando quindi all'inizio c'è stato un exploit al rialzo per gli indici azionari ovviamente parlo con l'euro che è venuto giù adesso vi farò vedere anche una cronaca minuto per minuto di quello che è accaduto ieri sul cambio euro dollaro che comunque non era sceso sotto il minimo del meeting del precedente meeting di gennaio per poi con piazza affari saliva oltre 4 punti percentuali per poi mangiarsi tutto insomma e oggi di nuovo è euforia in borsa proprio perché probabilmente gli operatori stanno adesso studiando bene analizzando metabolizzando bene tutta questa manovra corposa messa in atto da ieri dalla bce e vediamo a questo punto possiamo anche togliere queste due copertine vedete questo è il grafico un minuto euro dollaro a partire da ieri quando erano le 13 e 44 vedete in basso sotto l'orario di riferimento della candela quindi un minuto prima dell'annuncio di tutto quello che è stato poi deciso dal board della bce e vi faccio vedere quindi come se non avete vissuto in diretta quello che è successo ieri una tranquilla giornata di borsa quindi guardate lì ovviamente subito dopo l'annuncio è crollato l'euro dollaro ha vissuto questi minimi giù 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 fino alle 14 e 40 quindi 14 e 40 significa che eravamo dieci minuti da cominciata da circa dieci minuti la conferenza stampa di mario draghi e appunto ha detto che i tassi probabilmente non probabilmente che adesso le prossime mosse della bce non saranno più orientate sui tassi ma su misure non convenzionali questa è stata una notizia che ha capovolto l'andamento delle borse e dei mercati fino a quel momento infatti se vado avanti guardate successivamente quindi 14 40 al minimo tenete bene in mente 1 0 8 2 2 e da lì poi una risalita subito in mezz'ora circa di 300 pips poi il mercato che continuava la conferenza stampa e si è andati anche a toccare un massimo sopra 1 e 12 adesso lo vedremo comparire eccolo lì guardate incredibile 18 e 45 subito dopo la chiusura della sessione europea e poi verso le 20 un nuovo strappo al rialzo verso 1 e 12 insomma quindi come vedete tanta tanta roba nella situazione di ieri però la videoanalisi di oggi l'ho intitolata è inutile dire che i grafici avevano previsto tutto perché avete qui alla mia destra ne avevo già parlato anche nei giorni scorsi questo è il grafico giornaliero dell'euro dollaro e metto anche questo magari in primo piano così si vede bene perché che cosa cosa vuole intendere se i grafici è inutile dire che i grafici avevano previsto tutto perché ovviamente poteva tranquillamente venire giù l'euro dollaro e rompere questo supporto e magari poi man mano i prossimi giorni perché adesso entriamo già siamo in ottica pre meeting della federal reserve della settimana prossima quindi l'euro poteva tranquillamente continuare la sua corsa e venire giù rompere il supporto e poi continuare ancora giù fino a 1 e 0 5 quindi poteva davvero accadere di tutto certo è che quando noi se vediamo questo grafico allargato e lo vedremo magari tra qualche anno questo grafico dell'euro dollaro e faremo l'analisi su supporti e resistenze non ci ricorderemo probabilmente se non fate come me che metto la freccettina con la scritta quando c'è stato il meeting della bce e della fed non ci ricorderemo che in quel giorno lì il movimento questo rimbalzo dal supporto questo qui è partito ed è stato confermato poi dal meeting della bce magari sarà ancora confermato di più dopo quello della federal reserve insomma quando andiamo a vedere i grafici a distanza di anni andiamo indietro a riguardare tutto quello che è accaduto su un particolare strumento finanziario ovviamente non stiamo più a chiederci perché di quel movimento perché vediamo questa scia di candele verdi e rosse infatti la stessa cosa quando io faccio i corsi di formazione eventi online e offline che dico non mi interessa il motivo per cui l'euro dollaro rimetto in primo piano l'euro dollaro più volte è arrivato qui verso in area 1.15 è tornato giù 1.15 è tornato giù 1.15 è tornato giù come anche invece dalla parte su del grafico toccato 1.05 rimbalzo 1.05 rimbalzo 1.05 rimbalzo 1.05 rimbalzo il motivo che sta dietro a tali movimenti per cui il mercato toccando determinate zone grafiche rimbalzi rialzo o ritracci correga ribasso non mi interessa la cosa importante è trovare dei punti grafici dove non siano indifferenti al mercato ecco perché quindi è vero che i grafici non predicono però quando si fanno le analisi anche comunque ci dicono delle cose interessanti poi con gli strumenti che anche ho parlato nei giorni precedenti come proteggersi dalla volatilità a zerare neutralizzare l'esposizione di fronte ad eventi come quello di ieri magari avendo due posizioni a rialzo e due a ribasso di euro di euro contro dollaro contro australiano contro sterlina cad tutte le combinazioni possibili si riesce insomma anche a proteggersi dalla volatilità comunque passiamo all'analisi di quello che alla fine ci dicono i grafici l'euro dollaro come già ho avuto modo di dire in precedenza comunque sia con tutto quello che era successo fino alle 14 e 40 con il minimo toccata 1 0 8 22 non era stato non era sceso sotto il minimo dello scorso 21 gennaio il primo meeting della 2016 della bce quindi era tutto rimasto a rialzo l'intonazione resta decisamente positiva vedremo se tornerà avrà la forza per riportarsi a rialzo verso 1 e 13 come dicevo prima e adesso ovviamente siamo già proiettati al discorso federal reserve di novità grafiche rispetto all'analisi di ieri le cui novità grafiche sono state annunciate le ho messi con i grafici sul canale pubblico telegram e vi invito anche a registrarvi gratuitamente eventualmente per seguire ricevere direttamente su vostro smartphone tablet pc tutte quelle che sono grafici lo stesso questa video analisi ci sono delle novità interessanti andiamo a vedere subito out cad eccolo qui il grafico dell'australiano contro il canadese si forma questa candela rossa ai kinashi sulla resistenza in area 0 99 e 73 quindi si chiude questo rimbalzo dal supporto 0 96 e 32 questa trendline che già vi ho fatto idee nei giorni scorsi molto 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 interessante potrebbe invertire al ribasso e altra situazione interessante a partire da oggi euro contro australiano qui addirittura non ho dovuto neanche fare l'analisi per vedere se questa candela verde coincideva o meno con un supporto candela verde ai chi nasce grafici e chi nasce ripeto per l'ennesima volta non sono né un indicatore né un oscillatore ma uno stile di grafico che ci aiuta tantissimo per vedere quelli che sono i trend e anche possibile individuazione dell'inversione del trend quando dopo una lunga scia di candele verdi compare la rossa o dopo tante candele rosse appare quella di colore opposto verde così come il caso di euro australiano non ho dovuto vedere se la verde corrisponde ad un supporto perché ce l'avevo già qua guardate la precisione anche dell'analisi tecnica dove a dicembre 3 dicembre meeting della bce era partito questo poderoso rimbalzo fino in area 1 e 60 da lì poi la candela rossa del 12 febbraio un movimento di oltre 1300 pips con il minimo toccato ieri e oggi potrebbe invertire non è garanzia cioè non è che sicuramente succederà questo che adesso il mercato salirà fatto sta è evidente come dicevo prima toccate certi momenti certi punti nevralgici dei grafici da lì succedono delle cose interessanti bisogna prendere dato è un dato di fatto nessuno può dire non è vero è così proprio lì è scritto sul grafico e non li faccio io ad hoc quindi è trovate tutto lì un'altra situazione invece eurcad non molto chiara perché c'è stato anche il meeting della banca centrale del canada lo dicevo era una settimana intensa con ben tre appuntamenti con le banche centrali e settimana prossima poi c'è fed e banca del giappone e praticamente quindi c'è stato un po qui una situazione tale le situazioni antipatiche dove eurcad dopo questo poderoso questa importante notevole correzione della resistenza 158 e 72 qui c'è stato si pensava ad una possibile inversione perforazione del supporto e adesso nuovamente candela verde quindi sono queste situazioni antipatiche dove ci sono false violazioni possibili inversioni quindi come vedete non è tutto oro quello che luccica però fatto sta che se venivate già da questo movimento di oltre 1000 pips qui eventuali perdite si digeriscono abbastanza facilmente senza contare il fatto che magari si hanno altre posizioni in guadagno e l'ultima novità riguardo all'analisi ieri è gbp chf serlina contro franco svizzero candela rossa è comparsa su 1.42 guardate questo 1.42 quanto è bello praticamente un supporto vedete qui come ha stato fantastico nelle vesti di supporto anche qui una volta violato analisi tecnica dice supporto violato diventa resistenza e viceversa e infatti da quando è stato violato e possiamo anche zoomare per vedere meglio il grafico da quando è stato buttato giù sta funzionando benissimo anche come resistenza buttato ha respinto i tentativi di rialzo qui a febbraio vedremo se sarà ancora efficace per nuovamente con questa candela rossa che è comparsa apparsa ieri queste le novità diamo uno sguardo veloce anche alle situazioni dei cross contro dollari gli usd cad prosegue la discesa dopo che ha rotto questo supporto 1.36 e 79 il dollaro contro il franco svizzero dove questo più volte l'ho messo in evidenza è correlato negativamente in maniera opposta rispetto all'euro dollaro se sale uno scende l'altro c'era stato guardate ieri a un certo punto la violazione c'era ma bisogna attendere la chiusura della seduta per avere la conferma o meno e infatti è stato respinto al mittente l'ennesimo tentativo guardate già quante volte sta bussando a questa resistenza senza però riuscirvi a superarla e ritorna adesso a puntare nuovamente guarda a sud del grafico piuttosto che a nord e questo è un'importante conferma anche del trend che è in corso sull'euro dollaro guardiamo anche il dollaro yen ci avviciniamo una settimana in cui qui c'è usd dollaro meeting federal reserve yen meeting banca del giappone quindi è evidente guardate lì il grafico è fermo non sta facendo più nulla proprio perché adesso sta in attesa gli operatori sono in attesa di capire che cosa intende fare la federal reserve le commodity currency australiano prosegue la corsa al rialzo da quando ha rotto la resistenza 72 e 31 neozelandese purtroppo giovedì ieri non ho fatto la videoanalisi non ho potuto parlare della sorpresa che ha riservato la banca centrale neozelandese con un taglio dei tassi interesse a 225 che capite bene restano comunque tra i paesi più sviluppati altissimi preoccupa il governatore della banca centrale del neozelandese preoccupa quello che sta facendo la cina svalutando la propria moneta e qui come detto sono proprio commodity currency hanno una forte connessione un legame economico con le materie prime e quindi questo è il motivo per cui c'è stato il taglio dei tassi un crollo importante anche del cross nzd usd è confermato anche adesso dalla candela rossa ai chi nasce sulla resistenza 0 68 17 bene con questo è tutto vi ricordo l'appuntamento tra una settimana a milano 18 marzo se venite sul mio sito ci sono tutti i riferimenti per registrarvi gratuitamente parlerò di queste strategie soprattutto multi day come difendersi tutto quello che praticamente abbiamo seguito in tempo reale in questi giorni le varie dinamiche grazie alle chi nasce quindi proteggersi contro la volatilità lavorare contro a favore di trend e tante cose insomma di cui andrò a parlare dal vivo in questo evento gratuito a milano prossimo 18 marzo è venerdì quindi vi auguro un buon weekend appuntamento a lunedì grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti